In questo video vi racconteremo molto brevemente quello che abbiamo fatto oggi ci sarà anche qualche piccola pillola molto simpatica ci aggiorniamo i prossimi giorni per gli altri chilometri che ci rimangono verso Santiago Grazie a tutti Tu non puoi passare Tra l'altro stiamo festeggiando il nostro caro amico Pietro che compie ben 32 anni quindi ovviamente gli facciamo tutti insieme dei cari auguri Bimbi è giocchi Oh